Siamo con Carlo Rubi, amministratore delegato ESA, al termine di questa interessante giornata di lavori che è stato appunto l'incontro nazionale concessionari e installatori autorizzati ESA che si è svolto qui a Villa La Valera di Arese. Lei nel suo discorso introduttivo che ha proprio dato il là a tutti i lavori della giornata ha parlato di un fantasma. Che fantasma si aggira sulla sicurezza, sul mondo della sicurezza? Diciamo che è stato un incontro volutamente provocatorio, già dal titolo mettiamo in crisi la crisi e il fantasma che legge sul nostro settore è proprio quello della crisi. Oggi per certi versi sembra che questa crisi di cui sentiamo parlare molto spesso stia appena iniziando a colpire il nostro settore, quindi ci aspettano tempi magari difficili. È necessario però capire che questa crisi può anche essere un'occasione di crescita. Se sappiamo affrontarla con gli strumenti giusti, se sappiamo elaborare delle strategie che permettano noi, alle nostre aziende, di crescere. In questo senso la crisi può essere un'occasione di rinnovamento e di scoperta di nuovi spazi. Questo significa però mettere in discussione i nostri luoghi comuni, mettere in discussione forse anche tutto il modo in cui abbiamo lavorato in questi anni, semplicemente perché è cambiato completamente lo scenario nel quale noi ci troviamo ad operare. Quindi se sappiamo mettere in discussione quello che abbiamo fatto finora, che non deve essere necessariamente abbandonato, ma deve essere rinnovato nel nuovo quadro. ESA si vuole mettere a fianco dei propri partner, degli installatori autorizzati e concessionari, offrendo loro una serie di strumenti nuovi e innovativi per affrontare nel migliore dei modi questa nuova soluzione. Siamo convinti che questa è la strada giusta, l'unione delle forze, la condivisione delle esperienze, il poter far circolare magari i suggerimenti e l'aiuto reciproco per affrontare questa situazione possono permettere non solo di superare questa crisi, ma di farci trovare nel momento della ripresa in pool position per poter vincere poi nuove sfide. E proprio sul tema mettiamo in crisi la crisi, voi come gruppo ESA avete presentato una soluzione nuova che è proprio ESA Solution. ESA Solution è una nuova divisione che nasce all'interno della nostra azienda, partendo dalla considerazione che il mercato sta cambiando profondamente ed è quindi necessario andare ad affrontare la parte alta del nostro settore, quella dei progettisti, quella dei prescrittori, quella dei grandi utenti finali che hanno bisogno di conoscere le apparecchiature soltanto negli aspetti più importanti, quelli che a loro interessano, quelli che sono sostanzialmente le prestazioni, non tanto come si possono ottenere certe prestazioni, ma quali sono queste prestazioni. Noi abbiamo quindi deciso di creare questa divisione con del personale dedicato a questa azione di promozione verso questa tipologia di clienti per creare una domanda che poi possa ricadere sui nostri concessionari e sui nostri installatori autorizzati. In questo senso noi avremo anche un nuovo catalogo, un catalogo che comunicherà in maniera completamente diverse le nostre tecnologie di sicurezza. giocheremo molto sull'aspetto estetico, su quella che sono l'ambientazione delle apparecchiature all'interno degli ambienti da proteggere e quelle che sono le caratteristiche in maniera estremamente sintetica ed immediata utilizzando una simbologia molto chiara che permetta di capire subito quali sono le apparecchiature giuste da utilizzare nelle varie situazioni. Un'altra cosa ancora che hanno tra l'altro presentato in modo molto approfondito anche i suoi collaboratori, voi fate anche da supporto, da supporto non solo tecnico naturalmente e di ricerca e sviluppo, ma anche proprio nel far crescere i vostri partner che sono i signori che erano qui oggi tra l'altro tantissimi. Questo è proprio quello che noi vogliamo sia la differenza di ESA rispetto agli altri fornitori. Noi non vogliamo essere solo fornitori di apparecchiature, noi vogliamo essere al fianco dei nostri partner per aiutarli e per ricevere da loro dei suggerimenti. Questa è una crisi importante, quella che sta colpendo il nostro settore e nello stesso tempo è un'opportunità da non lasciarci sfuggire. Noi siamo profondamente convinti che possiamo aiutarci insieme per affrontare questa situazione. Diciamo che potremmo proprio sintetizzare dicendo che ESA non è più un solo fornitore di apparecchiature, è un vero e proprio partner che si mette al fianco dei nostri clienti. Non è una grande novità, è semplicemente il culmine di una storia che va avanti da quasi 40 anni. La ringraziamo molto. Grazie a voi.